La Procura della Repubblica di Pordenone ha disposto il sequestro della villetta di Lovri in via della chiesa al civico 50 di Sedrano, frazione di San Quirino, dove viveva assieme alla compagna dopo la sua misteriosa sparizione e il ritrovamento della macchia di sangue sul pavimento. Gli inquirenti al lavoro per esaminare se quelle tracce possono essere state provocate volontariamente dallo scomparso o siano di un'altra persona presente all'interno dell'abitazione al momento della sparizione del 46enne. Si indaga anche attraverso le immagini della videosorveglianza installata nella villetta che potrebbero aver raccolto indizi utili per chiarire in parte il giallo. Su questa parte che compone il puzzle sulla scomparsa di Lovri, massimo riservo da parte dell'autorità giudiziaria, da cui al momento non trappelano notizie dettagliate. Di certo si continuerà a lavorare per risalire in tempo celere a chi appartiene quel sangue e sgomberare ogni dubbio se la scomparsa possa essere imputata un fattore extra le reali volontà messe in campo dall'uomo.